Ciao a tutti, sono Davide Memmola, titolare di Tropical Mania, negozio di acquari, sito Incirie. Questa è una comunicazione importante per tutti i nostri clienti e chi è parte di questo settore, quindi chi ha acquario o animali acquatici. Allora, per fare un pochino di chiarezza per quanto riguarda DPCM, stiamo ricevendo moltissime telefonate a questo riguardo, abbiamo deciso appunto di consultare il nostro consulente, un'ottima persona che si occupa di queste regole e ci siamo fatti spiegare tutto quanto, come potrà funzionare per quanto riguarda il nostro settore. Ci tengo a precisare perché davvero moltissimi si sono disperati perché pensano di non poter più venire qui in negozio, in realtà non è così. Questo da ciò che mi ha detto, ovviamente le leggi non le facciamo noi, cerchiamo solo di capirle e rispettarle in tutti i modi. Allora, dunque, per venire in negozio non è cambiato moltissimo rispetto a prima di questo DPCM, occorre però invece la certificazione, quindi sapete come muovermi perché per qualsiasi cosa, credo, vi serva la certificazione. Dunque, per quanto riguarda la videoconsulenza con cui operiamo di solito per tutto quanto ciò che riguarda il suolo nazionale e non, faremo in modo che anche chi è impossibilitato a muoversi da casa riesca ad accedervi, così che possiamo effettuare questo genere di consulenza. Possiamo spedire tranquillamente, come facciamo già in tutta Italia, ma possiamo farlo anche nei paesi limitrofi, quindi in tutti i paesi, magari anche molto vicini. Quindi, se siamo a due chilometri di distanza, non vi preoccupate, si può comunque spedire tutto ciò che vi occorre per l'acquario, ad eccezione, perché la legge non lo prevede, di animali vivi, quindi non pesci, nella maniera più assoluta. Tutto il resto sì, tutto ciò che vi occorre per la cura e il mantenimento del vostro acquario, assolutamente sì. Ti si è rotto l'acquario o è un acquario nuovo, puoi ricevere l'acquario. Possiamo anche venire nell'arco di solo, però, Regione Piemonte, e quindi tutto il suolo che comprende la Regione Piemonte, possiamo effettuare delle visite di installazione, di manutenzione, di supervisione, le solite cose, però soltanto circoscritte per quanto riguarda la Regione Piemonte. Per quanto riguarda, invece, niente, bene o male dovrei aver detto tutto, spero di non aver dimenticato nulla, ho preso un po' di appunti, ma come al solito non li ho letti completamente. Nient'altro, l'ultima cosa che voglio dire, rimaniamo up, stare molto, molto, molto preoccupati, il mio giudizio personale, criticatemi pure, ma non fa bene la salute, quindi cerchiamo, dove è possibile, di provare a rimanere tranquilli. Siamo già forti dell'esperienza dello scorso lockdown, quindi dovremmo farcela anche in questo, va bene? Io vi saluto, grazie per l'attenzione e buon acquario a tutti. Ciao!